wow chef ma in questa ricetta non ci metti il limone no chef perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero buono ma dimmi una cosa che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino te lo dico io mastici decam così finiamo con un bel sorriso di casa quando non c'è lo spazzolino c'è decam ciao ragazzi siamo luca mio fratello alessandro siamo da moto way concisario ufficiale kawasaki kinko rivenditore selezionato honda siamo officina autorizzata di tre marchi ovviamente vi aspettiamo per condividere insieme a voi la passione delle due ruote la jb cars concessionario ufficiale jaguar land rover questa discovery sport a club 24 mesi di garanzia dell'anno 2020 unico proprietario 45 mila chilometri jama e di hybrid rd dynamic s iva esposta la presentiamo a 39 mila euro la trovate sul sito jb cars.it l'SH 350 nelle colorazioni 2023 è in offerta 5.490 per lo standard più 100 euro per lo sport sono inclusi il bauletto originale ed il parabrezza con paramani vi aspetto alla motostar benvenuti nella nuova sede di svezia car in le grassi 98 a milano dove troverete tutta la gamma volvo di veicoli nuovi veicoli usati volvo select e l'assistenza con la consueto qualità volvo ti aspettiamo in viagrassi 98 a milano evocomp composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto ducati e non e ti presenta la sua presa aria pinza freno per panigale street fighter v4 per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu ciao sono andrea a moto moto di saronno ho qua davanti a me il nuovo forte 350 di casa qj scooter atomico partiamo subito dal prezzo 5.750 euro di scooter con una strumentazione tft uno schermo regolabile sulla parte interona abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale e parliamo del peso 180 kg in ordine di marcia e eroga 34 cavalli quindi uno scooter ottimo anche in autostrada e vi aspetto a vederlo a modemoto di saronno fassina presenta audi a 5 sportback business estronic col 2000 turbodiesel 150 cavalli cambio automatico garanzia 24 mesi a 29.900 euro per la tua auto scegli fassina mt10 e mt10 sp 160 cavalli in promozioni con fino a 2.000 euro di supervalutazione per cambiare il tuo usato oppure per accessoriarla come meglio credi siamo a saronno e a leniano motor times ti aspetta ciao nel 2024 rivediamo la sigla di breakpoint rivediamo il professor luca bottazzi professor carlo rossi ciao luca ciao carlo ben ritrovati grazie per essere con noi come state bene grazie tu come stai rob in grande forma tengo duro tengo duro mi difendo e luca ho ricominciato anche a a provare a stare al passo con questi ragazzini con questi vecchietti che giocano tutti benissimo è bello 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 questo sport che avevo abbandonato colpa vostra e di marco dei viaggi che mi sta seguendo con la sua pazienza sono tornato invece a a divertirmi a lottare a far fatica a capire quanto è bello questo sport nonostante sia cambiato così tanto dai tempi in cui con la racchetta di legno si si faceva si faceva quello che si poteva bei tempi bei tempi però è a un qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altro gioco con la palla ci sono tantissime tantissimi aspetti che evidentemente non rendono lo sport unico e per questo è ancora più bello il successo che ha portato un ragazzo come jannick siner del quale ricordo carlo dubitare del fatto che potesse fare lo step ti ricordi carlo quando tu dicevi lo vedo lì tra il 3 e il 5 ma difficilmente lo vedo la davanti a tutti la davanti a tutti non c'è ancora arrivato però insomma la sensazione che possa fare qualcosa di grande luca carlo lo vogliamo sentire assolutamente è così aveva avevo questo dubbio che era legato ovvero prevalentemente ad una incompletezza del suo tennis e invece quello che è accaduto è che ha dimostrato di vincere delle partite giocando una qualità di tennis mediocre mediocre no esagerato una qualità di tennis buona ma non eccellente e quando uno vince giocando in questo modo vuol dire che ha le stigmate del numero uno perché è evidente che anche la partita ultima che ha vinto in finale dimostra questa situazione cioè sono pochissimi giocatori che presi presi a cazzotti in quella maniera fanno capire all'avversario che potrebbero a un certo punto potrebbe avere male alle mani per quanti cazzotti gli ha tirato e lui è riuscito a comunicare questo all'avversario e a ribaltare una situazione veramente veramente compromessa e quindi vuol dire che ha queste stigmate ed è l'unico giocatore dei nostri nella storia del tennis italiano che ha queste qualità luca bene la finale australiana è stata una finale particolare perché a mio parere abbiamo visto due partite in una nella prima ha vinto medvedere sei tre sei tre nell'altra ha vinto sinner tre setta zero cioè due partite che hanno visto due facce diverse due volte due facce opposte però della stessa moneta alla fine perché poi la partita ovviamente è la stessa e questo ribaltamento copernicano la dice lunga sul potenziale di sinner e anche io devo dire che avevo qualche dubbio e chiaramente le incertezze le ha a chi si occupa come Carlo Rossi da anni di ricerca insomma chi studia le certezze appartengono diciamo a un mondo un pochino più basico che non del fine intelletto ma del della gente grossa come si diceva una volta ciò non vuol dire che bisogna comunque mettere in discussione ogni singolo elemento postulato però eh in generale potenzialmente avere delle incertezze aiuta a migliorare proprio quello che è anche la conoscenza in sintesi io non pensavo che sinner potesse diventare numero uno del mondo infatti non lo è ancora vincere uno slam o più di uno slam sì però da come ha vinto la finale è possibile che diventi numero uno del mondo a mio parere non è più un sogno ma è una cosa è un'aspettativa concreta anche perché se non lo battono in quelle condizioni lì diventa difficile per gli altri quali quali erano i dubbi che avevi che avevi luca sul sul fatto che potete non potesse diventare numero uno del mondo non so se più po più paura o più eh o più così sfiducia sul fatto che potesse diventarlo no non è sfiducia è incertezza nel senso che lui sul piano tennistico non è mai stato un giocatore eh in cui traboccava l'arte del gioco cioè conoscere conoscere tutte le zone del campo tutte le velocità le profondità è un giocatore abbastanza la sua stimola è quella è un colpitore da fondo campo è un giocatore che ripropone sempre un po' lo stesso spartito però qua e là si è migliorato tantissimo poi è salito molto del servizio ehm ma soprattutto ha dimostrato di avere una capacità ipertrofica dal punto di vista psicologico rispetto agli altri a mio parere quello che ha fatto a Melbourne ha superato dal punto di vista mentale addirittura anche Djokovic Djokovic non di Melbourne Djokovic in generale perché io non ho mai visto in una finale il serbo maltrattato come Sinner e senza fare una piega risuscitare la partita questa è una roba che appartiene forse a Rafael Nadal e ancor più se vogliamo a Bjornborg perché a 18 anni contro Rantes nel 74 lui vinceva il suo primo slam rimontando da due set a zero sotto beh ma lì però c'è anche una secondo Carlo c'è anche una colpa tra virgolette di Melbourne perché comunque ha giocato due due set i primi due set pazzeschi pazzeschi il problema era poi mantenersi per almeno un altro set cosa che gli è mancata però io credo che i primi due set Medvedev abbia veramente dimostrato di poter dominare Sinner o comunque di poterla portare a casa quando poi ha cominciato a flettere un po' la sua prestazione Carlo lì è stato bravo Sinner a capire che si poteva ancora recuperare sì ma tu devi pensare ad una cosa eh la prima cosa da da mettere in evidenza è che eh il russo decide di giocare molto vicino al canto e di giocare del dei di short point a differenza di quello che fa normalmente primo aspetto e quindi sorprende Sinner perché vuol dire che la palla arriva molto più veloce rispetto al modello che lui trova di solito con Medvedev secondo il primo set ha servito l'ottattotto per cento di prime cioè l'ottantotto per cento di prime praticamente ha ha non ha messo una prima in tutto il set che è una roba cioè incredibile eh e quindi sconvolge da un punto di vista mentale qualsiasi giocatore perché l'ultima volta che hanno giocato contro è finita 6-1 al terzo per Sinner alle finals ok parte e lui però la cosa straordinaria di Sinner è che anche in una situazione nella quale l'altro avrebbe dovuto vincere 6-1 lui riesce comunque a perdere 6-3 che vuol dire che si gioca un quarto d'ora in più il secondo set succede non la stessa cosa perché il secondo set non è di così alta qualità da parte eh del russo ma comunque è sempre di ottima qualità eh Sinner non capisce bene proprio cosa deve fare per uscire da questa trama nuova che gli tesse eh e comunque riperde 6-3 ma la cosa straordinaria che poteva essere 6-1 perché l'altro va a servire 5-1 e lui invece riesce a breccarlo quindi segnale importante per dire ah però può ancora essere breccato questo qua anche stasera e poi sul 5-3 se non ricordo male arriva 40 pari e quindi eh gioca un un game molto lottato da quel momento in poi pur avendo preso di nuovo 6-3 cambia la solfa non è che cresce tantissimo Sinner sono andato a vedere i numeri del terzo set eh cala molto eh medvedere sale un pochino e però la cosa straordinaria è che l'altro gli lascia uno spiraglio di 5 centimetri lui ci infila la punta del piede dopodiché la partita è finita cioè chiunque ha visto i set successivi ha visto che l'altro scendeva di mezzo gradino e l'altro e e Sinner saliva di mezzo gradino l'altro scendeva l'altro saliva l'altro la le ha provate tutte è stato il quarto e il quinto set secondo me sono stati bellissimi da un punto di vista tennistico perché il russo cioè oh era sopra due set a zero ci proverà fino all'ultima palla e ci ha provato fino all'ultima palla ma Sinner da quel punto di vista è un giocatore straordinario addirittura ha cambiato la modalità della risposta sia sulla prima che sulla seconda retrocedendo cosa che io non suggerirei mai ad un mio giocatore ma lui ha questa capacità di rispetto a quello che ha detto Luca io aggiungerei una cosa non è vero che è un colpitore basta eh perché lui è un colpitore che però difende come il più grandi difensori cioè quindi perché i grandi colpitori poi in difesa sono scarsi mentre lui in difesa è eccezionale eccezionale e quindi eh a un certo punto gli altri fanno fatica a trovare il bandolo della matassa quando lui tra virgolette pareggia anche se è mezzo gradino sotto la percezione che dà l'avversario è che lui è alla pari o è sopra e questa cosa qua è quello che è cresciuto in assoluto di più secondo me eh dopo eh le due vittorie degli ultimi due tornei eh cosa ha fatto ha vinto in Cina ha vinto Vienna poi eh ha fatto le finance poi la Coppa Davis ecco in quel pezzo lì lui ha 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 costruito una solidità mentale una capacità di stare in campo che è addirittura più grande di quella di Diokovic come diceva giustamente Luca cioè non fa una piega mai mai non sbraita mai non anche quando prende pallate a destra e manca e questa è una forza pazzesca per un giocatore certo può essere anche una forza che gli ha trasferito il suo angolo Luca perché nei primi due set ci sono stati dei momenti in cui leggere il volto di Sinner voleva leggere voleva dire leggere il volto di 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 un ragazzo che stava soffrendo e che probabilmente non sapeva non sa che non sapeva che pesci pigliare no? Eh però l'angolo credo che lì sia sia servito molto del resto ha un angolo di di primissimo livello no? Non a caso è è stato premiato anche quest'anno eh con rabbia di Diokovic e di Ibanisevic Luca? Ma intanto siccome tu hai introdotto l'angolo io volevo fare i complimenti e l'abbiamo anche pensato insieme io e Carlo all'angolo di Medvedev perché onestamente nessuno si aspettava la versione che io chiamo di Mac Medvedev cioè sembrava più Macro dello stesso Medvedev ha servito sei ace 88 per cento di prime 1 2 rapido violento subito a farla voler tant'è che Sinner continuava a dire si vedeva anche dal labiale cosa devo fare continuava a chiedere quindi una sorpresa totale che ha sorpreso ovviamente Sinner ha sorpreso tutti ma la grande sorpresa è finalmente vedere del tennis perché onestamente negli ultimi anni causa voglio dire l'appiattimento l'omogazione delle superfici le partite sono quasi tutte uguali su tutte le superfici per intenderci tu prendi un ehm Urkaz Rublev o Fritz Rublev che giochino sul cemento sulla terra o sull'erba di Wimbledon la partita è sempre quella roba lì mentre una volta siccome le superfici erano molto diverse gli stessi giocatori interpretavano in modo diverso a secondo della superficie la partita e finalmente si è visto il tennis qualcosa di diverso e praticamente ha un po' sbugiardato molti addetti ai lavori che dicevano eh ma rete oggi non si può più andare quel gioco lì non si può più fare e invece se uno lo sa fare succede che va avanti sei tre cinque a uno almeno questo è quello che abbiamo visto noi nella finale di Melbourne poi diciamola tutta cioè Medvedev ha iniziato cioè in finale è arrivato in riserva ha speso molto più di Sinner però qui va dato credito a Sinner di aver saputo risparmiare durante la strada non ha buttato via energia ha perso solo un set contro Djokovic e per un pelo otto sei al tiebreak cinque a uno sotto al tiebreak contro Rublev non ha perso set contro Kacchanov e Rublev avrebbe potuto perdere sangue per dire energie e invece ha dato tre sette a zero uno all'altro mentre Medvedev ha perso già al primo turno ora non mi ricordo con chi un set poi contro Bur Borges che non è lo scrittore ha perso un set a vento in quattro contro Russurovi Urkaz e in semifianale contro Zverev battaglia di cinque sette solo il grandissimo Agliassima è riuscito a beccare tre sette a zero perché ha voluto giocare solo da dietro a tirare i colpi tecnicamente e poi dopo la partita avrà probabilmente con un po' di videoanalisi messo a posto il dritto e il rovescio ma voglio dire non riuscire a capire cosa uno deve fare è una cosa tragica uno sport di palla è come dire che un professionista affronta il Barcellona senza marcare il Barcellona di Messi senza marcare Messi lo aspetta in area di rigore per vedere di togliere palle chiaro che prendi cinque gol poi puoi perdere lo stesso ma tu un piano per contenere gli altri lo devi fare a mio avviso il problema è questo che il tennis sono sport tanto conosciuto tanto praticato quanto poco conosciuto perché non è contro intuitivo per intenderci caro Bob se noi ci troviamo tre a zero in vantaggio e dobbiamo giocare il secondo tempo in una partita di calcio possiamo attaccare o possiamo difendere il risultato giusto giusto se invece ci troviamo tre a zero sotto dobbiamo attaccare non è che ci difendiamo cosa facciamo difendiamo tre a zero per gli altri e questo è un concetto che capisce un bambino di dieci anni che gioca a calcio come Lionel Messi pallone d'oro ok mentre nel tennis se siamo tre pari quattro pari al terzo zero quindici o quindici trenta quindici trenta o trenta quaranta trenta quaranta o zero quaranta e stabilire qual è il punteggio più o meno alert se io faccio questa o io e carlo facciamo questo gioco lo proponiamo a trecentomila tesserati che giocano i tornei non rispondono tutti alla stessa maniera come può fare il bambino di dieci anni che gioca a calcio non so se mi spiego quindi se tu non sai in che condizione sei come puoi pensare di capire se devi attaccare difendere essere più diciamo perché in tre modi sostanzialmente si può giocare a tennis blocchi completamente il gioco blocchi e sblocchi oppure sblocchi in continuazione va da sé che quando sei sotto un treno come sinner non puoi che ricominciare da un blocco perché perché aumentano la serie dei colpi aumentando la serie dei colpi è più possibile trovare continuità e ritmo perché se ti metti a fare 12 12 tirando in lungo linea il tempo va già via velocemente ti ritrovi in tre sette a zero sotto la doccia quindi allora prima della partita io e luca avevamo fatto il pronostico più negativo che era se avesse perso i primi due set sette sei sette sei sette sei avrebbe avuto ancora delle chance ci eravamo detti ok e ci ha smentiti ancora di più in positivo perché ha perso sei tre sei tre e ne è venuto a capo lo stesso no precisa una cosa noi avevamo pensato e anche scritto che avrebbe vinto sinner favorito certo certo in quattro sette no no perché se no non si in quattro sette l'unica chance di me per poter vincere questa partita era andare in vantaggio di due sette a zero ma non sette sei sette cinque corretto esatto così così avevamo detto questo e lui ci ha smentiti perché ha preso sei tre sei tre ha vinto lo stesso quindi vuol dire che è ancora più capace di quanto noi pensassimo e questa è una cosa straordinaria e poi l'altra cosa che ho detto in precedenza è questa cioè quando adriano panatta ha vinto il suo slam giocava come adriano panatta al massimo del suo potenziale quanto la stessa cosa vale per il buon nicola pietrangeli e invece yannick sinner non ha giocato il suo miglior tennis nel senso che lo yannick sinner della finale delle fine se lo yannick sinner della coppa davis era un gradino sopra questo dell'australia dell'australia della finale carlo scusami come dell'australia in generale o della finale perché io ma sai è una questione di non ha non ha non ha performato benissimo neanche nei match precedenti però come dire riesce a il tie break che vince contro ruble è qualcosa che è inconcepibile per una delle persone normali che giocano a tennis e invece per lui sembra che l'asticella della normalità sta da un'altra parte ma non da un cioè non è che non è che ha tirato cinque vincenti capito cioè però quando arriva quel momento lì gli altri perdono che ne so il 13 per cento e lui sale del 15 per cento e il punto lo fa sempre lui non c'è niente da fare ha fatto sette punti di fila cioè una cosa impressionante no sei sei uno sotto sette cinque c'è una roba che però onestamente non capita neanche tra scappoli ammogliati quindi un po di colpa anche rubler perché in sei punti serve tre volte almeno un punto lo deve fare però ci vuole sempre un po la collaborazione dell'avversario anche se lui è stato straordinario a regolare soprattutto cacciano in tre set poi con gioco ci hanno detto che aveva la febbre di qua di là magari sono scuse però onestamente va detto che sei uno sei due nei primi due set a gioco vic a mio parere io dico qui mi assumo responsabilità non li da neanche gesù di nazareth in forma sei uno sei due a gioco vic quindi bravissimo lui però probabilmente il serbo ecco non era forse al suo meglio no no ma il serbo non era al suo meglio ma il serbo non al meglio ha vinto delle prove dello slam però è assolutamente mandato a casa è difficilissimo sì magari un qualche anno in meno carlo e cioè adesso sai cominciano a contare tanti aspetti in diokovic che un conto se hai trent'anni ventotto e non sei al meglio che la giochi lo stesso adesso comincia a diventare più complicato soprattutto quando ti sconti contro 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 uno come come jannic che eh se se non sei in forma e non sei in palla ti piglia ti piglia bastonate no cosa che ha fatto regolarmente no e poi gliela date due volte su tre nelle ultime tre partite prima della semifinale a distanza di pochi mesi per cui sì sì anche secondo me c'è un tarlo ormai nella mente di 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 diokovic tant'è che quando gioca contro di lui non fa scene non dà i numeri non non litiga col pubblico non urla col suo angolo cioè è un è un diokovic diverso ok mi piace l'aspetto anche legato agli altri siamo d'accordo che ehm Medvedev comunque era era l'unico che forse poteva mettere in difficoltà in finale cioè Medvedev io con tutto il bene mi piace da pazzi sono stato felice di averlo visto in quella manifestazione della squadra cos'è la Nations Cup dove mi è piaciuto tantissimo tra l'altro bel format devo dire che mi ha appassionato molto più di quella che viene chiamata Coppa Davis eh però Zverev mi piace ma in finale non l'avrei visto proprio con nessuna chance tipo Rublev anche se Zverev sta giocando molto bene per cui credo che l'avversario Medvedev poteva rappresentare veramente una una mina vagante forse era l'unico che poteva dare pensieri come alla fine ha dato comunque no a a Sinner o no assolutamente assolutamente era il giocatore sicuramente eh anche perché è stato numero uno del mondo anche perché ha già vinto eh prove dello slam quindi diciamo è molto più maturo e molto più capace di gestire queste situazioni perché anche questa cosa che tutti fanno finta che sia normale non è normale che uno giochi eh la finale dello slam eh in questa maniera e non è normale neanche che tu eh giochi in semifinale contro il numero uno del mondo che gioca a casa la sua a Melbourne dove ha vinto dieci volte eh e hai questo tipo di atteggiamento per me la cosa che impressiona sempre di più sempre di più sempre di più comunque rimane la sua capacità di navigare nella tempesta e e questa è una roba che hanno solo veramente veramente più grande ok vi chiedo un attimo di pausa e poi rientriamo e voglio chiedere qualcosa su eh su quelli che sono crollati Alcaraz lo stesso Rune che eh sembra veramente una crisi pazzesca e poi invece il titolo della trasmissione era dove va il tennis con Sinner perché abbiamo assistito a una cosa a cui noi assistavamo da beh neanche quando vinse Panatta quando vissero la Davis nel 76 ci fu così tanta attenzione come c'è stata per il tennis in questi ultimi in quest'ultimo mese e mezzo due mesi Davis e questo meraviglioso risultato di Sinner un impulso un boost pazzesco a un a un settore a uno sport a un a un sistema tennis eh che ha in Sinner una una perla ma anche eh un un organo trainante fortissimo per cui rientriamo e voglio da voi una riflessione su Alcaraz e Rune due tra i tanti che eh latitano che stanno facendo fatica e poi andiamo invece su che cosa ha portato eh al tennis eh Janik Sinner Torniamo subito Chef ma in questa ricetta non ci metti il limone eh? No chef perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero Buono ma dimmi una cosa che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io Mastici Degam Così finiamo con un bel sorriso Puri casa quando non c'è lo spazzolino c'è Degam La JV Cars concessionario ufficiale Jaguar Land Rover questa e-Pace approved 24 mesi di garanzia di agosto 2019 soli 101.000 km la presentiamo a 26.900 euro la trovate sul sito jvcars.it Ciao ragazzi siamo Luca mio fratello Alessandro siamo da Motoway concessario ufficiale Kawasaki Kimco rivenditore selezionato Honda siamo officina autorizzata dei tre marchi ovviamente vi aspettiamo per condividere insieme a voi la passione delle due ruote Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina parliamo di Evo e di R due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia della dotazione super completa di optional di serie il loro punto di forza a un prezzo incredibile vi invito a scoprire Evo e di R al Carviglias Fassina in Viaggrassi 98 a Milano non rimarrete delusi Ciao sono Andrea del concessionario Mediomoto ho qua davanti l'SRT 800 SX nuova full optional a un prezzo imbattibile di 9,590 monta di serie paramotore, cavalletto centrale, manopole riscaldate, sella riscaldata un 800 di cilindrata che eroga 92 cavalli il tutto qua a 9.590 euro vi aspetto per vederle insieme Ciao Fassina presenta Alfa Romeo Stelvio TI 2002 turbo diesel 210 cavalli chilometri zero colore rosso tetto nero spettacolare a 52.800 euro per la tua auto scendi Fassina Eccole qui le colorazioni 2024 del fantastico XADV sono oggi tutte disponibili in pronta consegna ma solamente da Motostar vi aspettiamo, non perdeteli Fassina presenta Volkswagen Golf Evo 1.5 TSI 130 cavalli con soli 30.000 chilometri a 23.600 euro per la tua auto scegli Fassina Nuova Tracer 7 modello 2024 promozione fino a 1.000 euro per coronare il tuo sogno di andare in sella ad una Yamaha Motor Times Yamaha ti aspetta a Saronno e a Leniano Evo Comp Composites produce Party Custom e Aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e nonne e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale V4 con scarico Acra per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu Eccoci qua Allora Carlo, Luca cosa è successo a Carlos Alcaraz prima di tutti perché è quello che un po' sta stupendo gli appassionati era quello che aveva dimostrato con Wimbledon ma con tanti altri match pazzeschi di essere l'astro nascente quello che però Sinner non ha mai sofferto perché a differenza di altri Yannick è sempre stato molto efficace contro Carlos Alcaraz però o qualcosa si è rotto e la cosa stupisce anche perché il suo il suo tecnico è bravissimo è super bravo che cosa si è inceppato in quel meccanismo lì che sembrava perfetto Luca, Carlo, vi ascoltiamo tutti e due Inizio io? Non si è inceppato niente Si è inceppato il fatto che Carlo Alcaraz vince le partite solo quando gioca tra l'80 e il 100% del suo potenziale altrimenti non le vince le partite perché a parte che dobbiamo dire che tutti e due sono 2.003 quindi voglio dire sono i più piccoli in assoluto che ci sono sul circuito e quindi bisogna dargli il tempo di raggiungere se ce la faranno secondo me probabilmente non ce la faranno le caratteristiche mentali di Yannick Sinner perché questa roba qua cioè è qualcosa che ti appartiene Carlo Salcaraz a me piace moltissimo e io lo vedo che tornerà a lottare tranquillamente per il numero uno del mondo insieme a Medvedev, Sinner sicuramente Rune non so non saprei dire perché invece Rune ha delle caratteristiche diverse cioè è uno che si batte un po' da solo ogni tanto perché va insieme fa fatica a stare tranquillo però però quando la butta in Cagnara cosa che fanno anche altri giocatori non è capace di mantenere la concentrazione e l'attenzione e quindi continua a fare alti e bassi e questa roba qua è un altro che a me pareva che potesse vincere delle partite giocando non al meglio e invece per adesso le vince solo quando gioca al meglio ecco questa è la differenza importante secondo me ancora una volta tra loro due che però ribadisco hanno due anni davanti da questo punto di vista per raggiungere uno standard un po' più elevato Luca? Beh sì intanto Sinner non aveva il livello di Alcaraz e di Rune due anni fa questo bisogna dirlo e come giustamente ha detto Carlo vediamo se raggiungeranno il livello di continuità di dell'italiano vero è che però Alcaraz è già stato numero uno del mondo e ha già vinto due prove dello slam Wimbledon e US Open è giovane si riprenderà per carità anche se adesso io lo vedo un attimo in una fase è un po' pubblicizzato perché sta lì sembra che fa un'esibizione ride tira fuori dentro vincente vincente fuori fuori gratis tutto gratis punto com cioè non è così risulto come l'Alcaraz abbiamo conosciuto prima prima della vittoria di Wimbledon perché giovane è vero tutto quello che vogliamo però quando tu detronizzi nel suo regno uno come Djokovic sul center court dopo di che non arrivi più a una sola finale in nessun torneo che disputi qualcosa voglio dire che non va cioè probabilmente è arrivato troppo in alto troppo presto anche perché a Djokovic non gli permettevano di giocare in America e in Australia a Wimbledon gli toglievano i punti praticamente questo c'è o non gioca o gli tolgono i punti quindi questo è arrivato anche numero uno a un certo punto ha rischiato addirittura il numero uno il danese rude con tutto il rispetto però il numero uno del mondo rude onestamente non si può neanche pensare dire ancora peggio per cui questo a mio avviso è stato forse la la sfortuna di Carlos Alca però ha tutto il tempo di riprendersi e quindi sarà protagonista da vedere secondo me in questa stagione invece una cosa importante è cosa farà Novak Djokovic perché intanto ha iniziato la stagione non vincendo in Australia che è la sua roccaforte ha beccato tre volte su quattro da Sinner e quindi diciamo i giovani premono sul trono se però dovesse riconfermarsi il numero uno del mondo ancora Novak Djokovic a fine 2024 onestamente questa cosa a mio parere ridimensionerebbe un pochino questi per carità sono ancora giovani devono maturare ma questa qualità del ricambio cioè in altre parole io non non vedo ancora Djokovic numero uno a fine 2024 non lo vorrei vedere per il tennis poi io per carità non ho nulla di personale contro di lui lui merita tantissimo una leggenda anzi gli auguro di vincere i prossimi tre slam però anche per capire questo ricambio se è effettivo uno di 36 37 anni ancora il numero del mondo non si dovrebbe vedere a fine stagione in cima alla classifica ATP ok Carlo prendo anche spunto dal messaggio di Carlo lo dog va bene il suo nome è questo qua usiamo questo si è arrivato a livelli alti dopo rispetto al carattere lo spagnolo quando è entrato nel tour era già completo a questo proposito io ti chiedo che tu prima hai detto grande picchiatore ma non solo difensore sublime ok queste caratteristiche visto che comunque lui non mi sembra in ogni caso dotato di una mano fatata a rete è vero che ha migliorato però non mi sembra dotato di quella mano che ha forse al carazze le armi che ha Sinner e che gli hanno migliorato il servizio da fondo campo è inscalfibile la difesa come diceva Carlo bastano per stare là in alto perché come ci insegnate come il tennis da sempre ci insegna quando c'hai uno che ti martella pian pianino comincia a studiarlo fino a arrivarci vicino fino a batterlo quello è il senso di questo sport bastano le armi di Sinner o devono lavorare anche su altro Carlo Luca no vabbè allora tanto la cosa meravigliosa che fa questo ragazzo qua col suo team è che lavora in continuazione per migliorarsi e per continuare a fare sempre meglio e credo che questa sia la cosa più importante le armi sono molte di più di quelle che si vedono attenzione perché ribadisco da un punto di vista della tenuta fisica parlo adesso non solo di quella mentale proprio di quella fisica è un giocatore straordinario è un giocatore iper elastico iper coordinato capace di una velocità assoluta ed ha una resistenza che hanno in pochi perché comunque alla fine c'è stato un periodo nel quale si faceva male retrocedeva cosa che adesso praticamente non fa più quindi da un punto di vista poi è uno che gioca sa attaccare a uno sa attaccare a due sa attaccare a quattro sa attaccare a otto e sa attaccare a venticinque quindi cioè non è un giocatore così normale è un giocatore molto 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 atipico difende come vi ho detto in maniera straordinaria e poi ha sempre come dire è sempre capace di stare capire quello che sta succedendo cioè capisce sempre quello che sta succedendo tranne appunto all'inizio della finale perché come dire è rimasto stupito dell'atteggiamento di Medvede ma tutti siamo rimasti stupiti dell'atteggiamento di Medvede cioè io tutto mi sarei aspettato cioè mi potevo aspettare che Medvede servisse come il padre eterno quello sì perché l'ho già fatto ma che giocasse così vicino al campo e a due cercasse la rete non me lo sarei mai aspettato quindi voglio dire da questo punto di vista è un giocatore di che comunque ha tante armi su che cosa deve crescere non ha una prima palla di servizio diciamo di qualità assoluta da un punto di vista della continuità però un'altra cosa dalla quale mi sono accorto è che quando serve 30-40 o 40-30 la qualità sale e poi ha una seconda di servizio invece che è straordinaria credo che sia una delle migliori del circuito quindi se sistema un po' la prima di servizio cioè pensiamo a Nadal e anche a Djokovic cioè quando hanno cominciato a vincere delle prove dello slam servendo così quando hanno cominciato a servire ad un altro livello hanno fatto delle strisce che cioè venivano interrotte ogni tanto da Roger Federer punto certo Luca ma guarda se uno legge le statistiche di tutta la partita cosa che non ha senso come diciamo spesso io e Carlo si nota che Sinner ha fatto più ace di Medvedev 14 a 11 però è nella distribuzione della percentuale di prima palla chiaramente che c'è stata una grande differenza tra Russo e Sinner però anche in una giornata così alla fine Sinner è riuscito a ritrovare anche una certa qualità con la prima palla perché gli ha quasi serviti tutti nel terzo quarto e quinto set una percentuale accettabile intorno al 65% certo non sulle percentuali di Medvedev che ha sfiorato l'88 e poi come ha detto giustamente Carlo questa capacità di difendere la seconda che spesso si attesta oltre al 60% dei punti giocati cosa che distingue in modo incontrovertibile proprio Novak Djokovic cioè sulla capacità di difendere la seconda palla in Sinner si vede molto Djokovic poi voglio dire i tempi sulla discesa rete sono migliorati non è vero che è più un pesce fuor d'acqua ma si è visto anche nella gestione per esempio in Coppa Davis del doppio un anno e mezzo fa in doppio è veramente un giocatore che non poteva neanche minimamente ricoprire il suo rango tennistico mentre oggi anche in doppio per fare una battuta se Sinner avesse giocato il doppio a Melbourne avrebbe vinto il titolo con molta più facilità che il singolare con un compagno a scelta come Mechero che la miglior coppia di doppio era Mechero e Chiu ora no non esageriamo perché mi sembra talmente forte questa cosa Luca io non l'avrei Mechero Mechero giocava il doppio quando il doppio era un pianeta abitato adesso è un pianeta praticamente disabitato praticamente sembra che giochino con tutto rispetto un torneo dei dilettanti e nel singolare un torneo dei professionisti non scherziamo ha ragione Luca non può diventare numero uno del mondo un giocatore che ha 43 anni e che vince la sua prima finale a 43 anni con tutto il rispetto la presa come voi è inquietante questa cosa non riesco a valutarlo perché se tu dici Wimbledon fino anni 60 prima anni 70 non mi ricordo primo turno primo turno Smith Lutz contro Newcomb Roach vogliamo ancora discutere però se dici questa cosa a chi non mastica tennis potrebbe dire sì però tiravano piano perché siamo sempre a queste cose qua come i termini non so sinere la resilienza di queste cose qui è solido si usa tanto questo termo la resilienza è quel fenomeno capace di fronteggiare un trauma e ristabilire le condizioni iniziali ok bene suggerisco un libro di Nicholas Taleb che si chiama l'antifragile che invece determina come attraverso l'esperienza maturata l'antifragile ti fa ripartire da una condizione superiore cioè non è che ripristina le condizioni di prima ma superata quella cosa riparti da una condizione superiore prima del trauma e quindi anche questi termini usati a vanvera cioè tu se hai un problema e lo superi ripristini teoricamente non sei nelle condizioni prima dovresti essere meglio se no vuol dire che non hai imparato niente dall'esperienza non so se mi sono spiegato assolutamente sì io vi chiedo se Monte Carlo in qualche modo sarà la salvezza di Sinner perché il casino che abbiamo visto i politici e le televisioni guarda che Carlo Rossi ha scritto e gli ha risposto Aldo Cazzullo te lo dico continua pure no no dimmi no dici tu Carlo sono più scusami no 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 non ho voglia non rendo pubblico nulla solo che a me ha dato molto fastidio che tutti abbiano per avere uno spazio di visibilità questo non è però Aldo Cazzullo Aldo Cazzullo non ha bisogno di questa roba qua ma ci sono milioni di altre persone che hanno dato dei consigli a Sinner se restare qui o andare là se andare a Sanremo o non andare a Sanremo se mettere la maglietta gialla o quella viola eccetera 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 la cosa anche qui lui è uno straordinario da questo punto di vista perché tiene tutti a distanza non risponde a nessuno e dice scusate ma devo andare a lavorare grazie arrivederci ma no infatti è una cosa meravigliosa perché è una cosa strepitosa e come dicevi tu a Monte Carlo ci deve stare per forza perché se no non può uscire di casa tant'è che nell'intervista che ha fatto in federazione ha detto devo scusarmi con i miei genitori perché tutti i giorni davanti a casa ci sono orde di giornalisti che vogliono intervistarvi e loro gli rispondono noi non siamo Yannick dobbiamo andare a lavorare ed escono di casa e vanno a lavorare capito perché questo è un paese così è un paese così però è la parte brutta del successo sportivo della bella storia di sport della bella storia di vita perché Yannick è sicuramente un esempio che viene poi sfruttato in maniera vergognosa da tutti ed è un qualcosa da cui si deve difendere mi sembra che stia dimostrando di essere capace e molto consapevole del fatto che debba stare alla larga da un certo tipo di sistema no? Assolutamente è quanto bravo quanto giocare a tennis secondo me ci sono dei passaggi che è ancora più bravo sì è ancora più bravo a stare alla larga da tutte queste situazioni a parte che è una persona straordinaria per quello che dice quando appunto non parla di tennis dice non sono tornato a casa a festeggiare perché era successa una tragedia e quindi non si festeggia quando in valle c'è una tragedia cioè ha delle sensibilità di un'altra categoria insomma adesso parliamoci chiaro ha ringraziato i genitori per avergli dato la possibilità di scegliere io voglio vedere quali genitori avendo un figlio campione d'Italia di sci lo mollano e lo lasciano andare da un'altra parte a fare una roba perché gli piace pagando un sacco di soldi e e questo inizia un percorso praticamente non da zero ma quasi da zero cioè ma forse voi non vi rendete conto di cosa c'è in giro di genitori pazzi che avrebbero fatto allora il 99,9% dei genitori avrebbe fatto la scelta opposta chiaro e lui giustamente li ha ringraziati e gli ha detto io non posso che dargli cioè dargli merito del fatto che mi hanno dato la possibilità di seguire quello che era il mio desiderio e così è successo io credo che molti danno addosso a Yannick Sinner perché vivendo in quest'epoca si aspettano che un personaggio popolare si faccia ferragnezzare coronizzare lelemorizzare però non è così anzi per fortuna che esiste questo ragazzo che è una plomb e fa fare una grande figura all'Italia per come si comporta sembra quasi un ministro degli esteri per certi versi ha solo 22 anni e fa capire forse ai nostri giovani e a molti giovani genitori che non basta per aver successo nella vita fare dei selfie ecco vero giustissimo ecco hai parlato dei ragazzini o dei genitori quelli un po' più problematici però i ragazzini sono letteralmente impazziti c'è un boom di iscrizione questo è quel boost di cui parlavamo prima che fa solo bene allo sport ed era già un sistema comunque in salute il sistema tennis giovanile adesso è quel momento che storicamente serve una disciplina come questa per investire sul futuro dico una cosa io guarda dipende come in tutte le cose che uso si riesce a fare di una fenomenologia perché il boom del tennis e ora mi devono spiegare come mai negli anni 70 l'Italia che non era più a forma di stivale era a forma di racchetta perché si costruivano campi da tennis dappertutto oggi sinceramente non è così anzi molti campi da tennis vengono convertiti in padel o in pickable che sono altri giochi di racchetta che però non hanno nulla a che vedere col tennis qualcuno dice che sono profetici al tennis non è così non è così perché sono degli altri sport per fare un esempio intanto non sono sport di corde per cui non hai la stessa percezione periferica uno ha le sponde in uno non puoi pestare le righe come dire che a tennis senti nel corridoio tolgono il punto a padel se uno sta la coppia sta schiacciando intanto si gioca in doppio non c'è il singolare se uno sta schiacciando a padel tu devi correre verso la palla per sfruttare la sponda ok a tennis che fai se smaccia Isner gli vai incontro di faccia quindi vuol dire che tu fai delle azioni dal punto di vista neuromuscolare ma neurologico che sono il contrario per cui non diciamo fesserie sono due sport bellissimi godibilissimi ma sono un'altra cosa come lo era lo squash che voglio dire c'è ancora uno sport molto più antico quindi intanto le nuove costruzioni riguardano soprattutto il padel il picket ball punto numero uno le scuole tennis è vero sono invase da bambini molto piccoli i quali però iniziano un percorso perché a mio parere il tennis viene venduto male cioè viene venduto e poi con Sinner secondo me potrebbe essere anche peggio ma lo dico mi auguro di sbagliare perché tu come tutte le cose quando diventano molto popolari rischiano di abbassare la qualità e dell'insegnamento e della qualità del prodotto e questo non lo dico io proprio una legge di mercato quindi cosa fanno invadono le scuole con l'aspettatività di diventare Sinner ok e ci sono subito tornei under 8 under 10 under 12 a livello internazionale in pratica quando Sinner decide tra sci e tennis a 13-14 anni la maggior parte di questi qui che hanno creduto di diventare tutti aquile da polli smettono a 13-14 anni perché hanno già 4-5 anni di carriera alle spalle ok una volta non accadeva questo e poi a mio parere il tennis dovrebbe sfruttare proprio invece questa affluenza per essere venduto in un altro modo è uno sport straordinario capace di accompagnarti tutta la vita la scienza ha detto che anche offre un'aspettativa di vita maggiore perché tiene allenato il cervello e il fisico e in più è uno sport singolo facile da organizzare nel contempo fa anche community perché ci sono i circoli quindi la relazione una racchetta un passaporto da sempre per ogni città quindi dovrebbe essere a mio parere veicolato in questo modo non iscriviti alla scuola e diventa il nuovo sinner perché tra le righe è questo il messaggio che passa quindi un messaggio sempre volto alla performance da supermercato veloce e non a un messaggio pedagogico educativo vediamo spero di sbagliarmi spero che sinner venga sfruttato per un messaggio formativo e non sempre come cavallo di troia per vendere lo shampoo dell'intelligenza però purtroppo anche qui ho delle incertezze ok giustissimo Luca tra l'altro il tema dei circoli mi piace perché è qualcosa qui sono molto legato che sono cresciuto all'interno di un circo il tennis milano ho vissuto lì cioè per me la mia vita era la scuola la casa ma molto il tennis milano è quella cosa che adesso però mi sembra a parte i grandi circoli storici che sono rimasti i circoli privati dove ti scrivi e fai quella vita che diceva Luca che conosce benissimo Carlo cioè la vita di club dove socializzi dove ti fai la squadra di calcetto dove fai gli incontri con i tuoi amici ti scorni il sabato la domenica la sera adesso in realtà i circoli nella maggior parte sono diventati degli affittacampi cioè degli affittacampi per cui dove non c'è più ahimè quello spirito lì c'è gente che viene gioca si fa la doccia lo usa come un campo a noleggio e poi va da un'altra parte per cui quello è un aspetto che mi piacerebbe magari trattare in una puntata in futuro se avrete voglia e tempo perché è cambiata la gestione ripeto i grandi circoli Milano quelli che vanno avanti evidentemente così ma dalle altre parti sei un affittacampi vai lì noleggi giochi vai via fai la doccia se tu dici questa cosa come ho detto io allora è completamente in antitesi con questo boom hai capito perché esatto a parte quelli di grande tradizione non è che pullano di soci sono anche in crisi a mio avviso perché perché siccome un tempo il tennis non è uno sport immediato nessuno vendeva il campionino cioè il ragazzino che spera di diventare campione c'è sempre stato tutti hanno sognato però non era così pompato dal sistema a livello 8 10 12 anni tant'è che avevi una classifica over 14 ricordo male Carlo over 14 corretto corretto la prima Lambertenghi era under 15 esattamente quindi vuol dire che quando uno scopriva di aver sognato e quindi non diventava campione lo scopriva dopo i 15 anni dopo 3-4 anni di agonismo intorno ai 18 anni hai un'altra maturità e magari dici ma io continuo comunque a giocare e quindi le scuole erano fucine per rimpolpare i club dal punto di vista soci sociale ok ma se tu vendi il campionismo a uno di 8 anni a 10 ha già fatto un po' di gara a 12 a 13 quando Sinner decide poi di fare un altro sport cioè tra tennis e sci sono quasi alla frutta hai capito se tu scopri a 13 anni di non essere destinato al tennis professionistico che ti hanno venduto è un trauma cioè smetti di giocare a tennis di sicuro e probabilmente smetti pure di fare sport attenzione questo è il grande challenge la grande sfida quindi per cercare di sfruttare questa affluenza ci vogliono degli insegnanti super preparati cioè dei pedagoghi gente che si occupa di fasi sensibili dell'apprendimento cioè una roba tutta universitaria non è che puoi certificare chiunque perché oggi sai una certificazione da insegnante di tennis non si nega nessuno se vai in un circo all'ora di pranzo e chiedi maestro si girano tutti cioè sono più i maestri dei soci capisci quindi attenzione che stiamo avendo una grande propulsione come aver fatto il pieno di una benzina potente nel motore del tennis ma poi va gestita da addetti e lavori molto competenti certo ce l'auguriamo chiaro vuoi aggiungere qualcosa mi lascia andare poi no guarda ha detto tutto molto bene Luca i boom vanno sempre gestiti in maniera molto 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 particolare e devo dire che però questa tendenza ad andare subito e presto verso il tennis diverso è un po' figlia del sistema odierno figlia dei social figlia di una serie di cose ti basti pensare che a livello italiano non c'è un circuito under 18 mentre c'è il circuito under 18 a livello mondiale quindi tu se vuoi giocare da over 18 cioè a 18 anni devi cominciare a fare il giro del mondo anche se sei una super pippa quindi una roba complicata che vuole dire quindi è abbastanza facile che le persone tra virgolette non di profilo altissimo smettano di giocare ok oppure giocano i tornei però ad esempio facciamo un esempio ancora banale se tu sei un 2.8 un 2.7 che quindi come dire non hai una quantità di tornei importanti vicino a casa tu devi decidere di fare più il tennista che lo studente ma è un paradosso cioè voglio dire tutti sanno che a quel punto lì tu sei una pippa o una mezza pippa però invece ti fanno credere che puoi ancora agganciare il torneo di quinto gruppo di sesto gruppo under 18 in giro per il mondo che è una cosa che non si può dire è come dire che i giocatori che giocano alla Maccallese prima o poi arriveranno in Serie A non è vero non si possono dire queste cose qua cioè forse ce ne arriva uno su centomila però poi ti dicono hai visto? in vent'anni esatto in vent'anni è un problema è un problema difficile da gestire ma ci sono anche altre discipline purtroppo che vanno nella stessa direzione non so ti posso dire che hanno provato a fare la Serie A 1 a 2 a 3 così ci sono tre Serie A giocano tutti in Serie A tutti in Serie A tutti in Serie A è drammatico Carlo mi sembrano le taglie delle signore quando ci sono certi negozi che hanno tutti la 42 la 42 A la 42 B la 42 è così è la 42 super elasticità che diventa una 52 ma è una 42 e vabbè è un problema culturale però ragazzi se così non funziona non ci resta che no a me e a Carlo no non vi resta che l'elemorizzarvi facciamo anche no io posso seguirvi preferisco anche io di nuovo Simer è tranquillo con quella testa lì che è più teutonica che è italiana non ci cascherà mai se c'è uno che non si l'elemorizza è proprio lui anzi l'ultimo è come Highlander l'ultimo degli italiani esatto esatto va bene Luca vi ringrazio tanto grazie Carlo è stato un piacere rivedervi spero di rivedervi nel prossimo futuro per parlare ancora di tennis a Breakpoint grazie Luca Bottazzi buonasera ciao Bob buonasera grazie a tutti grazie anche a voi ciao 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 wow chef ma in questa ricetta non ci metti il limone no chef perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero buono ma dimmi una cosa che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino te lo dico io mastichi decam così finiamo con un bel sorriso puro di casa quando non c'è lo spazzolino c'è decam da JB Cars concessionario ufficiale Jaguar Land Rover Discovery 5 aziendale di settembre 2023 ancora in garanzia fino a settembre 2028 5 anni di garanzia 3.900 km listino 89.000 è un 3.000 mild hybrid lo presentiamo a 69.500 euro lo trovate sul sito jbcars.it è lui l'XADV 750 il più desiderato degli scooter e lo trovate in promozione ultimo esemplare colore 2023 solo da Motostar all'incredibile prezzo di 11.900 euro più in matricolazione a presto Fassina presenta Alfa Romeo Stelvio T2200 turbodiesel 210 cavalli chilometri zero colore rosso tetto nero spettacolare a 52.800 euro per la tua auto scegli Fassina ciao sono Andrea a Modemoto di Saronno ho qua davanti a me il nuovo Ford 350 di casa QJ scooter atomico partiamo subito dal prezzo 5.750 euro di scooter con una strumentazione TFT uno schermo regolabile sulla parte interone abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale eroga 34 cavalli quindi uno scooter ottimo anche in autostrada e vi aspetto a vederlo a Modemoto di Saronno benvenuti nella nuova sede di Svezia Car in Viagrassi 98 a Milano dove troverete tutta la gamma Volvo di veicoli nuovi veicoli usati Volvo Select e l'assistenza con la consueto qualità Volvo vi aspettiamo in Viagrassi 98 a Milano ciao ragazzi siamo Luca mio fratello Alessandro siamo da Motoway concessario ufficiale Kawasaki Kimco rivenditore selezionato Honda siamo officina autorizzata dei tre marchi ovviamente vi aspettiamo per condividere insieme a voi la passione delle due ruote Evocomp Composites produce party custom e after marketing fibra di carbonio per moto Ducati e non e ti presenta le sue ali per Ducati Panigale 1299 per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu ciao si parte con le promozioni Tracer 7GT ti diamo 1000 euro di vantaggi e possono essere o sulla valutazione della tua moto usata che dai dentro in permuta o sul prezzo o sugli accessori vieni a trovarci Motor Times Saronno e Legnano